Curulandia! Curulandia, ovviamente! Curulandia! Dove l'avete preso questo? Ah non me ne frega niente. Curulandia! Ascolta, Curulandia! Mi hai capito bene? Fermi, 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 prima di partire con l'intervista, volevo solo dirvi che se avete bisogno di aiuto per aprire o gestire la vostra partita IVA, nel corso di questa puntata parleremo anche di Fiscozen, un servizio per gestire la partita IVA online senza stress, il tutto con un commercialista dedicato e una piattaforma per tutti quelli che sono gli adempimenti fiscali. Ma ad ogni modo, ne parliamo dopo. Partiamo subito con la nostra intervista. Signore e signori, benvenuti a Curulandia! Nuova, incredibile puntata! Oggi abbiamo con noi, ladies and gentlemen, niente poco di meno che Riccardo Zanetti. Madonna! Buonasera, ragazzi! Da buon bene ci ha fatto un bello spritzio. Esatto, voglio iniziare la puntata dicendo che è veramente, veramente buono. Ho fatto questo regalo apprezzatissimo. Beh, guarda che l'alcol a Dubai costa. È vero? Diciamo che siamo a Dubai. Tra l'altro, non chiedevo, ma si può girare con l'alcol? Perché Marco mi diceva che c'è bisogno di un po' di licenze. Mi sono arrivato qua col frighetto, non ne hai idea? Sì, perché dice che qui c'è bisogno di licenze per l'alcol è un po'. Allora Riccardo, voglio iniziare subito nel tragico. Però dai, perché è un avvenimento che è accaduto veramente da poco tempo e che mi ha particolarmente colpito, che è quello del tuo incidente che hai avuto recentemente. Volevo sapere più che altro se questa cosa sta influenzando in modo particolare la tua vita, il tuo lavoro, insomma, la tua vita quotidiana. Sicuramente dopo l'incidente ho avuto, come cavolo si dice, il periodo di recupero. Adesso in realtà che sono passati quattro mesi, sono quasi tornato al 100%. Quindi ha influito, sì, negativamente per uno stop i primi quattro mesi. Però, cioè, io sono una persona molto positiva e ottimista. E quindi io l'ho vista come un'altra sfida e come magari un jolly che mi userò più avanti nella vita o magari tuttora. Infatti subito dopo l'incidente c'è stata subito la mia sfida. Voglio fare l'Ironman perché, per chi non lo sapesse, ho avuto la sfiga di essere stato investito dal motore di una barca e di un gommone e ho perso tre dita del piede, due mi sono state riattaccate, mi è andata di culo perché per 30 centimetri rimanevo lì perché eravamo in mezzo al mare. Per fortuna non sono svenuto, insomma, tutte queste vicende. Però, cioè, io sto da Dio, cioè, nel senso fresco, pronto a fare qualsiasi cosa. Quindi, no, cioè, adesso non posso correre per dirti perché mi hanno riattaccato tre... Io ho perso questo dito. L'anulare. Che com'è l'anulare del piede? Ecco, da chi scazza subito l'alluce. No, l'alluce e il pollice. Vabbè, lasciamo perdere e passiamo per i capri. Si diceva la sfissa del mignolo. Esatto, esatto, esatto. E gli altri due me li hanno riattaccati. Adesso si deve riformare il callo e osseo. Tra l'altro, feedback, ho avuto un'esperienza meravigliosa in Italia perché tutto questo è successo a Vulcano, in Sicilia. E l'elicottero è arrivato in tempo. Mi hanno trasferito in tempo all'ospedale di Palermo. Palermo. E lì mi ha operato un Marco Rossi, fantastico. Un ragazzo giovane. Ciao Marco Rossi. Hai il nome più comune di tutti, penso. Marco Rossi. È andato da Dio. Poi, per carità, ho condiviso anche questa cosa nei social e tanta gente mi ha detto che non ha avuto lo stesso mio trattamento. Io probabilmente sono stato fortunato. Pensi è fortuna o il fatto che magari eri un ragazzo che comunque conosciuto che dava un po' riflettori puntati su magari la struttura ospedaliera? La prima settimana che ero lì, nessuno mi sapeva chi fosse. Poi, quando probabilmente qualcuno gli avrà detto che, la settimana dopo gli infermieri venivano a farsi le foto con me. Quindi è stato divertente come dinamica. Però non sono stato trattato meglio perché all'inizio, cioè non sono così grande che le persone mi conoscono per strada. E soprattutto perché io non tratto un tema magari che arriva a tantissime persone. E quindi c'è anche quel discorso lì. Esatto, esatto. Comunque complimenti davvero perché dopo una cosa del genere anche rialzarsi, vederti qui con questa grinta. Se è l'unica cosa, altrimenti stai lì a piangere. Piangerti addosso. Anzi, rischi di fare l'effetto opposto che ti sotterri e finisce così. Sì, 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 anzi. Però il discorso è che voglio che questo sia semplicemente una scusa per fare ancora meglio. Non voglio essere definito da questa cosa da qui in poi. Quindi, vaffanculo che sei partito da questa cosa sotto un certo punto di vista. Ma non era per definire, comunque è un avvenimento che ha fatto parecchio spalpore. Sì, sì, chiaro, chiaro. Partiamo invece dalle origini. Dai, facciamo così. Voglio sapere come chiediamo a tutti. Chi è Riccardo Zanetti dietro le telecamere? Come è nato il tuo personaggio, il tuo format, il tuo lavoro? Di cosa ti occupi? Proprio agli albori. Raccontami un po' la tua storia. Io arrivo da Padova, casa dell'Aperos Priz, e da un paese che si chiama Albignasego, che è a sud di Padova, 25.000 persone. È quella classica zona residenziale dove poi iniziano i campi. Quindi mi piace tantissimo la mia città d'origine. Sono sempre stato abbastanza... Cioè, sono sempre stato curioso di base. Abbiamo fatto la stessa esperienza in Australia, perché alla fine delle superiori non sapevo effettivamente cosa fare. Sono sempre stato innamorato dei numeri, e quindi da una parte c'era statistica che mi sarebbe piaciuta fare, poi ho detto, non lo so, non sono ben deciso. Arrivo da un'educazione tecnica, facevo un istituto tecnico informatico, e quindi ho detto, sai cosa? So di sicuro che l'inglese sarà una cosa che mi servirà. Quindi proviamo a cercare il lavoro dove si parla inglese. Ho avuto la fortuna che tramite una conoscenza di una conoscenza mi hanno presentato una persona lì. Ho provato a scrivere a questa persona, ho avuto la fortuna che questa persona è riuscita a concedermi uno stage alla Epson, che è l'azienda che fa le stampanti. E io facevo il tecnico di rete lì a Sydney. A Sydney proprio, ok. Ho fatto lo stage che è durato tre settimane. Lui mi ha detto, guarda, non posso offriti un posto di lavoro, se sei bravo poi ti assume il tuo manager, il tuo titolare. Per fortuna sono stato bravo, mi hanno assunto. Tra l'altro lì faceva riderissimo la situazione, perché io convivevo in un binocale. Con otto persone, in una brandina. Con sette persone e non era in una brandina, era un materasso sopra un altro materasso. Incredibile. Per te. Bellissimo perché avevo a fianco un filippino, tipo, come si dice, perso per il gioco d'azzardo. Ok. E sopra... Si balla la fresca. E sopra avevo un brasiliano che erano due fratelli, uno era in camera con me, uno era nell'altra camera, perché praticamente questo era un bilocale, folle, era sub-sub-affittato. Praticamente c'era questa persona che l'ha presa in affitto e lo sub-affittava a un'altra persona e quest'altra persona ha segmentato i letti e quindi tipo c'era la living room che era stata divisa con un pezzo di compensato e cartongesso. e aveva creato altre due camere in 70 metri quadrati e eravamo in otto, che poi cambiavano perché lui sub-affittava il letto. E quindi lì dentro ho visto passare... Soprattutto in Australia le vedi queste cose, sono fuori di terrestre. Ho visto di tutto, ho convissuto con due cinesi e la mamma dei cinesi che avevano 17 anni e questa mamma gli insegnava come vivere. Pazzesco. E quindi tipo vedevo queste scene da altro mondo. Poi c'erano i brasiliani che cucinavano una volta a settimana e si scatolavano tutto perché lavoravano nelle construction. Poi ho fatto lo stesso perché anch'io ho lavorato nelle construction. Quanto però un'esperienza del genere comunque... No, mi ha cambiato la vita. Esatto, cioè quanto ti ha fatto maturare. No, mi ha cambiato la vita. Cioè ancora in quel periodo, in quel periodo tipo, io sono abbastanza fisico, nel senso sono patito di numeri in generale, da denaro, statistiche, piuttosto che numeri anche quando, che cavolo ne so, statistiche in generale. Mi piacciono, ho questo... Non so neanche come chiamarlo. Questa passione, dai. E non so dove volevo arrivare. Non ho idea di dove volevo arrivare. Cioè che ti ha fatto crescere. No, lì avevo ogni spesa che facevo al centesimo, cioè forse deriva da quello, me la scrivevo. E tipo io so che avevo 70 dollari australiani da spendere a settimana, io spendevo quelli non un dollaro più, non un dollaro meno, e quindi è partito tutto da lì, perché non l'avevo mai vissuto da solo e stavo finendo i soldi quando finiva lo stage, perché comunque costa l'Australia, se non... E' chiaro, no, no, lo so, lo so, lo so. Però vedi, alla fine, tutte queste cose qui le impari quando proprio ti ci ritrovi, quando sei costretto a impararle, no? Quindi no, sicuramente è un'esperienza, io lo dico sempre, che la straconsiglio a chiunque. Eh, prime lezioni di finanza personale, ma quindi arrivavi a fine mese oppure avevi problemi? No, quando ho iniziato a pagarmi, l'esempio che... Cioè, io arrivavo molto bene a fine mese, ma perché sono sempre stato molto risparmiatore, soprattutto lì. Cioè, io ricordo ancora che venivo pagato 700 dollari australiani, che sono 500 e rotti euro. E' pochissimo per vivere lì, no? Ma a settimana per lo stipendio. Ah, ok, a settimana, ok. È il minimo, è il minimo che all'epoca c'era, quindi erano tipo, mi pare 16 o 17 dollari l'ora, che è il minimo, cioè sotto è il... Cioè, nel senso, c'è lo stipendio minimo, quindi io prendevo il minimo in assoluto e io spendevo circa in tutto 400 dollari. Quindi ogni settimana risparmiamo 300 dollari australiani, che sono 200 euro. E quindi ero là che risparmiavo questi soldi perché poi volevo tornare in Italia e non sapevo benissimo cosa fare quando sarei tornato. E volevo tornare in Italia perché avevo intanto la ragazza in Italia, all'epoca la mia ex. No, la salutiamo. Salutiamo. Ciao, Laura. Ma poi quando è che sei... Quando hai cominciato... Perché si può dire che è YouTube che ti ha cambiato un po' la vita? Sì, queste esperienze, poi YouTube che... Allora diciamo che queste esperienze ti forzano, ok? Ti rendono più uomo, ok? Ti fanno fare tutte queste... Queste determinate cose che poi sono quelle che vai a condividere sul tuo canale YouTube, immagino, no? Sì, diciamo che l'esperienza in Australia è quella che mi ha fatto realmente fare le domande. Le grandi domande, tipo cosa voglio fare, chi sono, come sopravvivo, chi voglio essere in futuro e anche perché poi dopo questo lavoro io avevo un visto particolare che si chiama Working Holiday Visa con il quale puoi, come sai, puoi lavorare solo sei mesi con la stessa azienda e dopodiché sei obbligato a cambiare. Io avevo finito questi sei mesi con l'Epson. in realtà loro mi avevano offerto di prolungare con loro e prendere un altro visto che poi è il sogno di tutte le persone che vanno in Australia. rimanere nella stessa azienda rimanere lì e andare avanti. Io però, cioè, io all'epoca avevo, penso appena compiuto o 19 o 20 anni. Giovane. E quindi mi dicevo, cavolo, bellissimo, atmosfera bellissima, mi piaceva un sacco, però sono curioso, cioè volevo vedere più cose. Per fare esperienze. E gli ultimi due mesi ho detto, faccio esperienze e nel frattempo faccio qualche lavoretto in giro. e in quegli ultimi due mesi lavoravo nelle construction perché era a chiamata. Nelle construction? Sì, ho lavorato due mesi nelle construction, è durissimo. E lì ho capito veramente che cazzo è lavorare, svegliarsi. Ti ho capito cosa non vuoi fare nella vita. E lì ho capito esattamente cosa non volevo fare nella vita. Però per carità, anche lì ci sono cose che mi piacevano comunque fare, portare avanti. E quindi lì ho fatto le prime domande. Cioè lavori sodo ma sei spenserato, finisci il lavoro e poi... Esatto. Ma senti, c'è un motivo per cui non hai fatto l'università? L'ho iniziata in realtà. Ah, dopo quando sei tornato? Sono tornato e ho iniziato tre cose contemporaneamente perché mentre eri in Australia ho iniziato a tra virgolette educarmi e ho sempre avuto... Cioè tutte le cose che ho imparato io le ho imparato tramite YouTube perché quando c'era una cosa che non sapevo io la cercavo su YouTube. E poi ovviamente devi essere in grado di cercare bene la cosa che vuoi imparare altrimenti non la trovi. Però avendo, c'è nel senso il mio profilo se uno va a vedere il mio canale YouTube esiste dal 2011-2012 poi non ho mai caricato video ma sono sempre stato lì a assorbire informazioni e nell'ultimo periodo quando ero lì iniziavo a farmi le domande su ok, come faccio a guadagnare? Come faccio a guadagnare di più? Come uso i soldi che sto risparmiando? E pian piano ho iniziato a formarmi su questo ambito e vedevo che le cose che stavo provando funzionavano in parte. un altro tipo click è stato anche quando questo coinquilino filippino morto cioè questo fa morire da ridere praticamente lui sul deep web bellissimo questo ragazzo nel deep web acquistava droga non ho idea di che tipo di tipologia di droga acquistava droga e per acquistarla all'epoca si parla del 2016-2017 bitcoin ora è miliardario e il problema è stato che lui aveva questo indirizzo pubblico e la chiave privata di accesso al suo portafoglio dove deteneva i bitcoin e l'aveva scritta su questo foglio di carta in un'agenda come quella la cosa meno intelligente che puoi fare dipende poi come la custodisci se c'è il tuo inquilino in casa insomma e questo qui io lo vedevo che ogni due settimane lui smantellava l'appartamento per cercare sto cazzo di foglio di carta che non trovava e quindi era lì che spostava cose e gli chiedevo ma che cazzo stai facendo e lui mi ha spiegato tutta sta cosa perché nel 2017 c'è stata la seconda o prima bull run quando bitcoin ha incrementato il suo prezzo da nulla a 17 18 mila dollari e lui era lì che aveva non ho idea di quante migliaia e migliaia di dollari dentro quel portafoglio perché anni e anni prima aveva comprato droga con bitcoin ce n'è tanti e non riuscivo a trovarlo assurdo un altro click è stato quello tipo che cazzo è bitcoin cosa ci si può fare è un investimento e allora queste cose messe insieme ho detto sai cosa proviamo poi quando sono tornato in Italia ho detto sto imparando diverse cose su youtube non so benissimo cosa fare ancora della mia vita ho trovato un lavoro e quindi mi stavano assumendo di nuovo come tecnico di rete dopo l'esperienza che ho fatto all'Epson ho iniziato l'università e nel frattempo ho iniziato il canale youtube a lavoro poi dopo che mi hanno assunto non sono neanche mai andato cioè nel senso gli ho detto raga qui youtube sta andando bene io ci credo in questo progetto e bravo però anche questo non è scontato lo stai dicendo come se fosse normale ma tante persone io iniziavo già a vedere i risultati sono stato fortunato perché il video con più visualizzazione del mio canale è il primo video che ho fatto il primissimo e di che parlavi in quel video? si chiama come vivere una settimana con un euro o comunque una cosa di questo genere ha tipo non so tipo 3 milioni di visualizzazioni però non le ha fatte subito perché veramente carichi il video e dopo mezz'ora ha 2 milioni di visualizzazioni è arrivato dopo 3 mesi però quei 3 mesi dove io mi stavo facendo le domande dove ho iniziato l'università dove stavo per iniziare a lavorare e dove ho iniziato questo canale youtube è andato bene fin da subito relativamente perché poi prima di quel prima che quel video andasse virale e secondo me è andato virale per una serie di questioni che secondo me sono anche interessanti da poter sfruttare se uno vuole mandare virale un video cioè la prima cosa ero iper timido e affannato ovviamente primo video figurati e quindi subito tutti i miei amici che si condividevano il video e che lo guardavano tutto per prendere il culo però quello fa aumentare tantissimo il watch rate cioè quanto una persona guarda quel video che è un che è un indicatore che youtube piace cioè più le persone guardano il tuo video più è probabile che alle persone o piaccia o sia interessante perché alla fine l'obiettivo di youtube è mantenerti dentro la piattaforma e quindi tutti questi miei amici si guardavano il mio video fino in fondo per prendermi per il culo banalmente ed è stato fantastico perché le prime interazioni hanno subito dato un riscontro positivo dopodiché se lo condividevano tra di loro per prendermi per il culo che anche quella è una buona statistica cioè quando le persone condividono il tuo video fuori dalla piattaforma quindi un'altra call to action che nessuno sfrutta ma secondo me potrebbe essere interessante farci dei test è condividetelo su whatsapp o condividetelo condividetelo non lo sono tutti iscriviti al canale però è vero ragazzi condividete questa puntata su whatsapp vediamo facciamo questo test e poi l'altra cosa è che ho sbagliato un sacco di cose e quindi tipo io dico come vivere con un euro al giorno per una settimana però tipo vado in giro con la macchina di mia mamma vivo nella casa dei miei genitori che già quelli sono l'italiano medio però te lo va a dire è facile così poi come prima cosa che faccio cucino la pasta in un modo che l'italiano medio non si aspetta cucino mezzo chilo tutta insieme il primo giorno e poi l'hai in scatolo che è bruttissimo è bruttissimo e quindi che merda che sei e quindi interazioni capito e così è andato virale poi ci ha messo un po' perché ovviamente youtube se parti da zero lo propone un po' di persone poi sempre un po' di più poi ho visto un giorno che ha fatto 500.000 visualizzazioni in un giorno e il mio canale è cresciuto da zero a 10.000 iscritti in tre giorni mamma mia tanta roba e cioè per carità molto fortunato poi nel frattempo per carità non è mai solo fortuna poi per carità dietro quel video c'è anche un discorso che io ho fatto quel video specifico perché come vi dicevo seguo da tantissimo youtube quindi sono andato a ricercarmi in tutti i paesi i video virali inerenti al denaro perché io volevo parlare di soldi nel mio canale youtube e ho visto che in tutti i paesi o con le sterline o con gli euro in francia o con i dollari in america o con tutte le altre valute c'era un video del genere e quindi ho fatto un frankistein di tutti questi video e ho detto secondo me può funzionare visto che quelli sono andati virali ha funzionato cosa secondo te scusa no no ti chiedevo ma all'inizio i commenti negativi sia di amici che di estranei ti toccavano mi hanno toccato il tipo il quinto o sesto video dopo quel video che è andato virale è tipo io che praticamente quasi commosso commento i commenti negativi e tipo spiego chi sono cosa faccio da dove vengo e chiedo anche scusa anche se in realtà come scusa scusa non avrei dovuto neanche chiederla però c'è nel senso io ero all'inizio ero un bambino ancora e quindi mi hanno ma tuttora mi toccano un sacco c'è anche il minimo commento anche adesso li guardo tutti poi non ne commento quasi nessuno ormai commento sempre i primi la prima mezz'ora però li guardo li vedo come fanno ancora a darti noia perché è difficile andare avanti in questo un po' uno si fa solitamente uno scudo no per carità ho uno scudo molto più grande forte di una volta però comunque mi toccano in un qualche modo non so perché forse sono fatto io così magari sono un people pleaser come si direbbe voglio che le persone che mi stiano attorno siano contente felici è normale è un qualcosa su cui devo lavorare io perché la loro felicità non può venire da te però è vero se non è chi dice che gli danno noia dice un po' una bugia a me è arrivato un hater accanitissimo mi manda l'email non è chi come l'email anche a Gurulandia ho delle persone che offendono solo me praticamente puoi vedere i commenti tutti io giuro io leggo alcuni dei vostri commenti voglio da ridere c'erano tutti con me poi bellissimo senti ma perché la scelta di parlare di soldi finanza da cose dovute che poi ho visto che comunque hai spaziato tanto io ho visto anche tanti suoi video che ne so di vlog dove eri in viaggio quindi anche molto più broad però ovviamente si sa che chi ti segue da tanto diciamo che il tuo main quella è l'impronta cioè nel senso di tutto quello che faccio poi c'è sempre dietro un'indagine su come funziona dal punto di vista monetario ma un po' per curiosità mia un po' per il fatto che in Italia non se ne parlava o se ne parlava molto poco fino a cinque anni fa e soprattutto perché secondo me è una cosa utilissima cioè penso di essere stato o il primo o tra i primi che su YouTube ha fatto vedere guadagni reali cioè ho preso lo screen delle analytics del mio canale nel 2019 ho spiattellato che guadagnavo 50-100 mila dollari soltanto dalla monetizzazione di YouTube è vero se ti esponi tantissimo ho visto video dove fa vedere proprio tutto il tuo patrimonio anche perché non è pericoloso vai a rompere degli schemi è un tabù che in Italia è ben radicato io lo faccio per quello io lo faccio perché più ne parliamo più perché io il denaro e secondo me tutti dovremmo guardare il denaro come uno strumento uno strumento che se utilizzato bene ci può dare dei risultati anche nella nostra vita poi per carità ci sono diversi studi che vanno ad analizzare quanto il denaro influisce sulla felicità che poi è appena stato sputtanato lo studio dove si diceva dove c'è il limite a 85 mila dollari se guadagni più di 85 mila dollari la tua felicità poi non aumenta più non è vero hanno appena sputtanato quello studio se volete una novità e ci devo fare un video a proposito se passi da 80 mila dollari 8 milioni mi sa ma dipende poi come incide nella tua qualità della vita cioè poi alla fine c'è sempre un limite dove i soldi non sono più un problema secondo il tuo pensiero cioè Riccardo Zanetti cosa pensi a riguardo quanto il denaro incide sulla felicità di una persona dipende dipende quanto denaro che grazie al denaro comunque hai migliorato tanto la tua vita immagino io grazie al denaro sì ovvio a passare da risparmiare e pesare il sacchetto al supermercato in Australia e vedere che se c'era una pera in più la toglievo certo da non poter cioè nel senso per carità arrivo sempre da una famiglia che non mi ha fatto mancare nulla però non mi ha neanche cresciuto nel massimo degli splendori perciò passare da cioè io le prime sponsorizzazioni le vendevo a 50 euro e facevo e e facevo il conto se faccio 8 sponsorizzazioni arrivo a 400 euro arrivo a 400 euro con 400 euro al mese poi youtube deve darmene altri 400 e arrivo a 1200 cioè passare da da quello a adesso più o meno fare 30 mila dollari al mese e non mi nascondo cioè nel senso 30 mila dollari al mese è quello che riesci a generarli solo da youtube adesso no in questo momento da tutta l'attività attorno a youtube ok quindi ok quindi specializzazioni ads esatto sì ma comunque una bella nel senso cioè il passaggio mi ha concesso di fare esperienze che non avrei neanche mai potuto pensare quindi certo incide e sicuramente se da 30 passassi a 100 inciderebbe e mi permetterebbe di fare tante cose in più ovvio è il discorso è come raggiungi quel quel traguardo perché poi c'è anche un discorso di eticità rispetto del pubblico e ci sono tante altre cose che per me hanno un limite e magari per altre persone hanno limiti diversi prendo la palla al balzo pensi di essere stato di aver sempre registrato operato condiviso contenuti nella totale eticità e trasparenza oppure no sì ok questa è una domanda perché vedi una live qualche giorno fa del nostro amico germanito che salutiamo che ti accusavano di aver fatto sponsorizzazioni un pochino tipo a a guru dalla dubbia eticità essenzialmente guarda io ho sempre condiviso tutto con massima eticità nel senso non ho mai poi non ho neanche mai sponsorizzato direttamente le cose cioè io nel momento in cui mi si parla di un qualcosa che non conosco io prendo sempre una certa distanza poi prima di fare ogni cosa faccio le mie indagini nella live in questione si parlava di due video che io ho fatto in passato dove spiegavo il dropshipping con una persona che secondo me è valida era valida per spiegare quella determinata cosa che ho conosciuto mi ha spiegato come si faceva la cosa mi ha fatto vedere i suoi risultati e io ho detto secondo me è interessante parlarne e quindi ne abbiamo parlato dopodiché quella persona ha preso delle scelte che io non condivido ma questo è successo dopo? questo è successo si parla di cose di video che ho fatto tre anni fa due anni fa poi io non posso sapere ogni persona con cui io ho fatto un video cosa andrà a fare perché ho fatto video con in questo momento il mio canale ha mille penso più di mille video tra l'altro ti è successa una cosa che mi sta veramente sui coglioni e vengo in tua totale difesa mi espongo anche io e non lo faccio mai quello che ti è successo è un striscio la notizia che veramente è una roba quello mi ha fatto abbastanza ridere insomma io se ero in te mi girava coglioni mi sono girati tanti coglioni però poi riflettendoci mi ha fatto un po' ridere il video poi io recito e sono incazzato sono molto incazzato nel video perché quella è stata la prima reazione è chiaro caldo certo e poi in realtà quando ho registrato non ero incazzato ma sai quando succede spesso che vediamo una persona che punta il dito contro di te a prescindere senza sapere chi sei cosa fai allora c'è da dire quello ti dà fastidio no? c'è da dire che io prendo un grande rischio cioè penso di essere tra le poche persone che fa vedere online esattamente quanti soldi hai in ogni singolo conto ma non è un rischio anzi è trasparenza quella sì però da un altro da un altro punto di vista se uno non va a farsi le indagini prima di fare una cosa non sa neanche non sa neanche cosa c'è dietro e si parla comunque di un tema che è un tabù in Italia sì quello sì poi per carità cioè io sono stato quello che è successo in breve striscia la notizia ha fatto uno spezzone sui fuffaguri e ha messo il tuo volto che io non vendo corsi non vendo corsi però sto a Dubai per esempio che anche quella è una scelta cioè io sono a Dubai che come brand se stai a Dubai come brand è quello in Italia non viene fatta una differenziazione non viene fatta una differenziazione se vendi corsi è sempre fuffa poi per carità io la vedo sempre con un'ottica positiva il pubblico di striscia la notizia non sono le persone che mi guardano perché sono prevalentemente over 50 tendenzialmente come media poi per carità me la guardo anch'io strisciare la notizia quando sono in Italia con mio opa però comunque un danno sempre gigante insomma per l'immagine da un certo punto di vista sì da un altro punto di vista mi ha dato la possibilità di dire la mia e di dirla con un video che poi ha fatto circa 200.000 visualizzazioni però capito il tuo video ha fatto 200.000 però la mia fortuna è che il pubblico che mi guarda sa quello che faccio e quindi i primi commenti che mi sono arrivati su Instagram piuttosto che su YouTube o in giro sono sempre stati di guarda sti figli di quello che hanno fatto e quindi io dico cazzo quindi vuol dire che qualcosa di buono comunque lo sto facendo e le persone che guardano quello che io faccio sanno quello che io faccio poi per carità a volte io provo empatia quando una persona mi dice mi fa quel commento perché magari ha visto quei 10 secondi di uno spezzone di mio video e quindi dico cazzo sì però Riccardo sei un cazzo di coglione e quindi quei 10 secondi dovevi dirli diversamente poi se uno allunga e guarda 10 minuti capisce che quei 10 secondi sono solo decontestualizzati ma te ora stai prendendo azioni legali o qualcosa oppure lasci correre io ho fatto ho fatto una diffida che è praticamente una richiesta di scuse posso potete scusarvi cioè perché questa cosa non va bene cioè mi avete messo in mezzo a un gruppo di persone che non mi appartengono perché praticamente quello che è successo è che hanno fatto questo servizio hanno preso il mio video iper decontestualizzato dove io faccio la revisione del mio patrimonio perché ogni mese ho questa rubrica dove faccio tutta la revisione filo per segno quanti soldi ho eccetera e fanno vedere io che dico questo mese il mio patrimonio è arrivato a 507 mila dollari in aumento però senza vedere da che video era in totale esatto preso e buttato lì in mezzo e dopodiché dopo di me ci sono diciamo persone con una reputazione dubbia gente antisistema gente che critica l'educazione insomma avete ben presente no ma guarda io ti capisco ti giuro perché sta proprio sui coglioni il fatto che ormai chi sta a Dubai vende corsi o parla di soldi automaticamente è timbrato no un timbro guarda la mia reazione è stata da Veneto con lo spritz la mia reazione è stata diversa bestemmia proprio tante davvero Veneto molte molto fantasiose però dopo però dopo quello dopo quello rifletti ti fai una doccia ho detto forse sai che mi è tornata di vantaggio questa cosa poi in realtà la diffida l'ho mandata con con Carlo Alberto che voi conosciamo che salutiamo grande Carlo in realtà lui mi diceva che si potrebbe andare avanti con la come Carlo si dice querela con la querela non so se passerò alla querela perché non è stupito oh di buono querela è una parola detta molto però non ci sto riflettendo ancora in questo momento penso che non ne valga la pena cioè nel senso cosa ci potrei guadagnare sì magari secondo me niente c'è quello te lo deve dire Carlo quindi valuta valuta con lui senti Dubai parliamo un po' di Dubai salutiamo Dario Moccian tanto prima di fare gradissimi hai preso un sacco bellissimo io non è che lo conoscevo tanto ma da dopo l'intervista ho cominciato a seguirlo di brutto mi fa morire a me le sue reazioni piacciono una vita sì sì no è forte è veramente forte però lui ecco ce l'aveva a morte con Dubai li faceva schifo te che abiti a Dubai invece cosa ne pensi ti piace pensi di aver fatto la scelta giusta a venire qui sei qui solo per una questione fiscale o vedi altri vantaggi nella città insomma ti chiedo un po' complessa come domanda allora io sono venuto qui nel 2021 quasi due anni e mezzo fa e prima stavi in Inghilterra vero? prima stavo a Londra ho fatto un anno e mezzo due anni a Londra per il discorso che lì mi trasferivo per fare un'esperienza e per abbattere il carico fiscale perché io ero a regime forfettario all'inizio e avevo sforato il limite del regime forfettario e quindi sarei dovuto passare ordinario o SRL e lì lì ti spelano cioè nel senso la tassazione aumenta parecchio ma in Inghilterra si risparmia tanto? in Inghilterra ho fatto la riflessione tra diversi paesi tra Emirati all'epoca 2019 Emirati Arabi Portogallo Londra c'era l'NHR non c'è più lo so ero andato a Lisbona mi è piaciuto un sacco però la burocrazia comunque con l'NHR è una rottura di balla infinita avevo indagato quella cosa a Londra poi ho visto che si risparmia la burocrazia ci risparmia qualcosina cioè non è che abbatti il carico fiscale da 50 a 0 però passi da 50 a 20 che comunque che comunque è qualcosa dopodiché tante delle aziende con cui collaboravo e collaboro hanno sede avevano sede tendenzialmente a Londra perché Londra era pre Brexit era il polo fintech europeo quindi ho detto sai cosa Londra mi è sempre affascinato mi è piaciuta risparmio qualcosina di tasse qui ci sono tante aziende con cui collaboro mi piace comunque continuare a lavorare a tema finanza fintech e tecnologia e quindi mi sposto mi sposto a Londra dopodiché a Londra c'è stato il covid quindi me la son vissuta no alla fine perché siamo sempre stati chiusi dentro bellissima città anche lì c'era lockdown tutto molto meno forte che in Italia cioè io durante il lockdown potevi andare a parte che da content creator tu avevi tutte le scuse del caso se volevi andare fuori durante il covid e ho sentito le peggio cose da colleghi che è perché effettivamente tu stai andando a lavorare quando vai a poi aprono l'iPhone eh no sto lavorando insomma era abbastanza un punto di domanda però lì a Londra se tu andavi fuori per attività sportiva sereno quasi sempre e quindi andavo a correre poi per carità non era aperto niente quindi basta perché Dubai era tutto super aperto tutto libero infatti erano tutti qui erano tutti qui io mi ricordo era in periodo covid c'era il panico qua e tornando alla tua domanda poi stressato e snervato dal periodo covid ho detto voglio iniziare anche spinto magari da da l'invidia che provavo per le persone che viaggiavano molto di più ho detto anch'io voglio vedere cosa c'è fuori nel mondo al di là di quello che ho già visto allora ho messo insieme le cose ho detto ok questi questi prossimi due anni voglio viaggiare e ho creato questa sorta di rubrica tra virgolette dove in ogni posto che andavo a visitare facevo dei video dove andavo a mostrare quali fossero le opportunità di lavoro il costo della vita le opportunità di investimento se ce n'erano e quindi prima di fare tutta questa cosa ho fatto ma ha senso che io mantengo tutte le mie cose qui a Londra non c'è una strada migliore allora ho iniziato a indagare le cose valutare un po' e ho spostato tutto a Dubai perché ho battuto ancora di più il carico fiscale e soprattutto mi sono messo in un hub dove ci sono quattro report internazionali da cui arrivi dappertutto dappertutto sì anche quello è molto strategico dall'anno prossimo che Dubai ha introdotto comunque una tassazione anche tu immagino hai intenzione comunque di rimanere qua oppure sì perché alla fine io sono freelancer qui non ho un'azienda ah ok per i freelancer fino a un milione di dirham sei comunque tassato allo 0% ovviamente se operi tutto al di fuori degli Emirati Arabi io sono lì quindi mi viene tassato soltanto quello sopra il milione di dirham un milione di dirham per chi non lo sapesse sono 250 mila euro comunque penso che sia un milione di utile non di no di fatturato di fatturato sì superato quello dopodiché al 9% per la società è utile per la società è totalmente diverso sì esatto poi per carità se superi il milione di utile poi se superi il milione di fatturato dopo quello vai a utile anche sopra il milione chiaro chiaro e invece riguardo la città in sé quando sono arrivato non mi è piaciuta 0 0 poi hai cominciato ad apprezzarla piano piano o ancora hai la stessa idea è un argomento che mi richiede sempre in tantissimi quando sono arrivato non mi è piaciuta non 0 cioè alcune cose mi sono piaciute e alcune esperienze le ho fatte mi sono anche piaciute però il discorso qui almeno quando sono arrivato è che non trovo le persone giuste cioè veramente ho fatto tantissima fatica a trovare persone con i miei stessi valori con cui condividere uno spritz è chiaro ti capisco dal tuo punto di vista ti capisco e quindi e quindi dicevo ok ma ora siamo io e Walter speriamo e quindi dicevo ok cioè nel senso io sto a Dubai quel mese ogni due mesi di viaggio quel mese lavoro come un mulo perché devo sistemare tutte le cose che registro fuori da Dubai e quindi sai cosa lì lavoro faccio il mio però cioè quel mese io lo so frio quando stavo qua tra il 2021 2022 e adesso in realtà piano piano con molta fatica sto trovando le persone giuste mi sta piacendo sempre di più ho trovato un quartiere che mi piace dove ho le mie cose poi per carità convivo c'è anche qui Masha e quindi mi dà una grande salutiamo Masha ciao Masha che bel nome beautiful name Masha it's Mariami Mariami actually Mariami ah Masha is like the surname no Masha it's like nickname ah nickname yeah sorry nice siamo passati all'inglese perché Masha è russa giusto sì e quindi adesso sto trovando sto incastrando le cose e stanno funzionando sempre meglio poi sono arrivate tante persone in più a Dubai negli ultimi due anni e quindi c'è c'è anche più alternativa e le persone che sono arrivate negli ultimi due anni sempre di più si fermano a vivere qui perché tra 2021 2022 cioè tu vedevi che da marzo ad aprile a maggio cioè a maggio non c'era più nessuno perché poi qui fa caldo per carità è un fenomeno che c'è ancora però ora ci sono più persone ci sono più alternative e mi piace sempre di più stare qui poi per carità se dovessi scegliere qualità della vita in Italia qualità della vita a Dubai è difficile sai è veramente difficile cioè i pro e i contro in entrambi i casi io per esempio la settimana scorsa ero a Milano che avevo un evento di marketing e secondo me veramente mi sono riservato delle sensazioni in cui ho pensato ok sono veramente nel degrado qui totale ti dico la verità situazioni in cui mi sentivo un pochino cioè pericolose capito dove camminare per strada devi avere otto occhi però è chiaro che in Italia mangi bene i tuoi locali meravigliosi posti stupendi e ci sono le cose che qui valutano devi mettere tutto sulla bilancia sì cioè è una scelta è una scelta dove non ho una risposta sinceramente no ma ti capisco adesso in questo momento della mia vita mi fa molto comodo poi comunque rimanere qui perché comunque viaggio risparmio molto dal punto di vista di fiscalità perché qui l'imposizione male non fa male male non fa e qui per carità ci sono un sacco di opportunità in più da un certo punto di vista in meno da un altro punto di vista perché per esempio per la mia attività su YouTube probabilmente mi converrebbe stare a Milano alzerei il fatturato della mia attività molto di più perché tutte le agenzie sono tutti lì gran parte dei miei amici creator sono lì collaborazione cioè io quando vado a Milano una settimana concludo concludo un sacco di lavori stando qui dal punto di vista creator ne concludo meno però d'altro canto ci sono altre possibilità come quelle di aziendali che non ve ne parlo ancora ma per l'anno prossimo sto hai bisogno di aprire o gestire una partita IVA? puoi farlo in modo semplice da casa e essere assistito da un commercialista dedicato al telefono o via email Fiscozen è nato proprio per questo un team di consulenti che ti garantirà l'apertura di una partita IVA in poche semplici ore oltretutto la loro piattaforma intuitiva e facile da utilizzare vi permetterà di creare e inviare fatture elettroniche e di sapere in anticipo quanto pagherai di tasse così avrai il controllo assoluto del denaro sul tuo conto e potrai decidere con sicurezza quanta liquidità lasciare da parte e quanto reinvestire nella tua attività proprio come dicevamo in puntata con Riccardo il tuo commercialista dedicato di Fiscozen sarà pronto a rispondere a tutte le tue domande e ti farà anche la dichiarazione dei redditi quindi approfitta del link in descrizione per richiedere una consulenza fiscale gratuita e senza impegno con uno dei loro consulenti grazie al codice inserito avrete 50 euro di sconto sul primo anno di abbonamento torniamo alla nostra intervista aprendo delle attività qui poi magari ne parleremo attività fisiche attività fisiche sì 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 applauso a Riccardo mi sto pagando addosso mi sto pagando addosso però tipo ho fatto il business plan per fare queste attività e sto anche nel frattempo io voglio solo sapere ci spoiler l'investimento investimento iniziale 100.000 euro ok 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 no non cose foglie poi per carità a crescere cioè nel senso è molto moltiplicabile come attività poi magari ve le parlo off camera grande grande a voi e e in questo momento sto anche comprando degli appartamenti in Italia da mettere in affitto bravo e il business plan di fare un'attività qui è grande come il business plan di acquistare una casa in Italia cioè è snellissimo quello intendi no? cioè zero burocrazia quasi il discorso di mettere in conto tutte le tasse tutti gli oneri che vai a pagare per i dipendenti il discorso di andare a vedere le licenze è tanto quanto tutte le tasse tutti gli oneri che tu devi mettere in conto quando vai a comprare un appartamento in Italia che è assurdo cioè se io mi mettessi a fare la stessa attività in Italia avrei un business plan di sei pagine sì sì chiaro certo e quindi c'è quello come vantaggio poi non so dirvi vantaggino da poco non so dirvi quanto poi renderà perché effettivamente io sto iniziando ora certo in bocca al lupo è grande comunque secondo me il discorso di tasse qui è meglio anche perché ci metti un quarto del tempo a fare qualsiasi cosa servizi servizi assolutamente cioè io apro Karim e trovo la signora che tra quattro ore mi viene a pulire no no ma dico anche proprio aprire un'attività no o il signore o il signore cioè aprire siamo qui terreno no dico che ne so apri un ristorante qualsiasi attività penso in Italia ci metti molto di più rispetto a Dubai non lo so però mi hanno detto che si sta snellendo sempre di più l'apertura e poi la gestione chiusura no ti faccio un esempio a me mi piaceva aprire un fondo investimento in Italia tipo devi fare la richiesta alla banca d'Italia aprire un SGR devi aspettare anni anni a Dubai vedo persone che non aprono un fondo di investimento tipo dopo due settimane ce l'hanno cioè è una roba incredibile in quel settore c'è anche da stare attenti no certo assolutamente quindi io cioè lato fondi di investimento cioè approvo molto di più il comportamento italiano piuttosto che qui perché qui di persone che aprono cioè quando si ha a che fare con i soldi degli altri cioè ci sta che ci sia tutta la burocazia è un esempio perché secondo me si rispecchia anche negli altri settori no sì però ti dico ci sono alcuni settori in cui è giusto altri in cui ci sono settori che qui sono poco normati come giusto che sia o magari normati il giusto e con una burocrazia giusta chiaro in Italia hanno una burocrazia molto più ampia che ti fa dire cavolo però devo spendere più tempo dietro alle carte fanno passare la voglia piuttosto che a fare l'attività e invece ci sono settori dove qui sono poco normati dovrebbero essere normati di più infatti i truffe se ne sentono parlare tutti i giorni lato finanziario qui a Dubai è pieno e se non è mai subita una ti faccio i complimenti a te è successo? sì madonna ah tipo? vi racconto poi fuori scambio di ogni tipo scambio di ogni tipo e in Italia invece è più difficile perché c'è più protezione lato cliente e quindi da quel punto di vista è molto meglio l'Italia però dico anche la gestione aziendale se un SRL in Italia te molto tempo lo devi dedicare alla gestione della contabilità di tutto qui a Dubai comunque io non so vedo Marco non ho mai sentito illuminare commercialista o cose del genere mentre in Italia se c'è un SRL comunque ogni settimana devi investire tanto tempo per stare dietro a queste cose sì il problema più grande è il secondo me poi io non ho mai aperto un'azienda in Italia quindi c'è nel senso l'esperienza a metà e per come ho sentito secondo me il problema più grande è che non hai la certezza dei costi e che non hai la certezza che da un anno all'altro le cose non cambieranno quello è il problema più grande perché a lato tassativo ci sono paesi che hanno una tassazione più alta dell'Italia però il vantaggio è che sai che hai una stabilità che da un anno all'altro le carte in tavola non cambiano in Italia cambiano continuamente quindi uno quando apre un'azienda deve avere una o due persone che si dedicano a quello questo è il feedback che io mi sento di dare capito senti secondo te quali sono questa è una domandona i principi fondamentali della finanza personale che ogni persona dovrebbe conoscere il primo sicuramente è sapere quanto entra e quanto esce ok e quindi banalmente tenere traccia delle proprie spese qualsiasi al centesimo no non deve essere maniacale io sono maniacale ok cioè tipo te tracci anche la bottiglietta d'acqua e infatti come fai la bottiglietta d'acqua la rotondo all'euro però a volte anche no cioè traccio anche il 50 centesimo ma usi un'applicazione o fai fogli excel adesso wow te tutti i giorni ti metti lì la sera no una volta al mese mi metto lì ci metto quelle quattro ore e prendo tutte le carte tutte le mie carte tutti gli strati conti e compilo wow infatti Marsha mi vede bello assorbito però quelle quattro ore a fine mese mi metto la e so esattamente quanto spendo questo è un bellissimo consiglio comunque subito poi nessuno lo fa questo no ma di base quando vuoi migliorare qualcosa devi sapere cosa stai facendo quindi banalmente ti prendi ti metti lì questo è questo è e allora sei già cioè riesci già ad individuare dove stanno le falle cioè se uno se uno spende in categorie e in cose parecchi soldi e vede che quelle cose non gli servono a niente dice cazzo però sto mese potrei abbassare queste spese potrei addirittura tagliarle se poi una persona vede che con quello stipendio non riesce a campare e che non ha più non ha non ha più margine per abbassare le sue spese anche se devo essere sincero tante persone pensano di aver abbassato abbastanza le proprie spese cioè io in Australia vivevo con 70 dollari a settimana in un paese dove il costo della vita è altissimo comunque ora questo non credo sia più possibile dieci anni fa forse sì scusa non è facile no no lo fai lo fai madonna si fa io sono a favore del risparmio ma non forzoso nel momento in cui tu hai un problema devi risolverlo in un qualche modo quindi se non puoi abbassare le spese devi andare a guardare a guadagnare a guadagnare di più quindi inizi a farti le domande ok cosa studio che skill posso apprendere certo dove posso aumentare nella mia carriera però tante volte una persona pensa soltanto a non guadagna abbastanza però magari sta spendendo in puttanate e lui pensa che siano spese che effettivamente gli servono e secondo me si riesce a tagliare anche cioè se uno è frugale riesce a tagliare anche tantissimo le proprie spese è che devi essere frugale devi metterti in questione devi metterti cioè non devi uscire una volta in meno e cioè non è facile io non sto dicendo che sia facile io sto dicendo che se vuoi ottenere dei risultati devi fare per forza dei sacrifici o da una parte o dall'altra quindi come prima cosa sicuramente guardare te volte la spesa come sei visto no insomma però dico c'ho una domanda ma ti pensi che una persona con uno stipendio normale in Italia semplicemente tagliando le spese risparmiando 200 euro 300 euro al mese riesce ad ottenere una indipendenza finanziaria nel tempo ma poi dipende anche perché risparmi cioè l'obiettivo diciamo è di tu stai anche poi se quei 300 euro risparmiati da una cosa che è una stronzata li metti in qualcosa dove magari te ne genera altrettanti o il triplo il quadro non lo so io penso questo che intendevi risparmiare 3.000 4.000 euro in più all'anno è utilissimo però è difficile che ti aiuta poi a cambiare la tua indipendenza finanziaria cioè solo me magari il trucco è veramente guadagnare di più sembra una banalità assurda no beh sicuramente se guadagni tra i 1.000 e i 2.000 euro al mese puoi fare molto lavoro per aumentare quello che è il tuo flusso di reddito perché non è impossibile arrivare oltre quella cifra e per carità ti devi mettere in questione devi apprendere nuove skill devi studiare cioè nel senso c'è lavoro da fare e poi io non sto dicendo neanche che se guadagni tra i 1.000 e i 2.000 euro sia da buttare via perché comunque riesci a fare secondo me almeno a Padova riesci a fare tranquillamente una vita dignitosa mio papà guadagna quello mia mamma più o meno guadagna quello e stanno bene e hanno permesso di crescere una famiglia di tre tre bambini tre fratelli ah è un secondo fratello pensavo vivi un fratello solo siamo in tre grande e e quindi anche con quello poi per carità se vivi in centro a Milano e e magari sei obbligato a stare lì cioè ci sono altre domande che ti devi fare poi per carità quando si parla di indipendenza finanziaria quindi avere un patrimonio che ti permetta di di sopravvivere con i rendimenti del patrimonio stesso non è un obiettivo raggiungibile facilmente da tutti pochi ce la fanno certo l'obiettivo secondo me per tutti dovrebbe essere dovrebbe essere assicurarsi una da un punto di vista una pensione rilassata assicurarsi una vita più tranquilla con il discorso di gestisco bene le mie finanze perché quello è l'obiettivo non è cioè se vuoi raggiungere l'indipendenza finanziaria di lavoro ne devi fare tantissimo non è una cosa raggiungibile facilmente però già soltanto migliorare il proprio stato è già qualcosa da cui partire e secondo me è un qualcosa che tutti dovrebbero chiedersi e tutti dovrebbero fare secondo me sai cosa però è che il problema è proprio come ha impostato il sistema che gli stipendi sono gli stessi da vent'anni l'inflazione comunque non finirà mai ci sarà sempre cioè dipende da dove sei se sei in Italia sì in che senso scusa se sei in Italia gli stipendi sono fermi da 30 anni esatto esatto se sei in Lituania a Vilnius negli anni 90 sono cresciuti con un rate del 10% eh no però capito io parlo per gli italiani capito perché tanto ci ascoltano italiani ok magari puoi risformare sì ma nel tempo diciamo che la situazione tenderà sempre a peggiorare se te non punti a guadagnare di più perché gli stipendi comunque non si alzeranno eh l'inflazione i soldi li stamperanno sempre quindi è proprio a livello matematico che te perderai sempre di più potenziali d'acquisto rispetto anche a quello che guadagni no? verissimo eh questo dipende dalla barca in cui sei eh se sei nella barca sbagliata eh devi farti le domande e devi chiederti ok questa è la situazione come la sistemo come la miglioro eh io non sto dicendo adesso che ok sei nella barca italiana e quindi devi spostarti nella barca lituana e andare a Vilnius però sto dicendo di ok sto facendo questo lavoro vedo che eh questo è lo scenario economico attuale ci sono i soldi che ho in tasca valgono sempre meno quello che posso fare è o vado dal mio datore di lavoro e gli chiedo un aumento in modo tale che lui cioè devo anche mettermi nell'ottica di potergli chiedere un aumento e quindi devo spiegargli perché valgo di più e perché dovrebbe pagarmi di più e quindi devi anche imparare a fare quello perché è comunque una skill vendere se stessi e e dopodiché devi metterti nell'ottica di farti grandi domande cosa voglio raggiungere chi voglio essere cosa voglio fare e non è facile cioè molto poi dipende dall'ambizione della persona stessa certo però se me sei costretto più che ambizione cioè a una certa sei costretto fino a una certa soglia probabilmente sono d'accordo con te senti quanto pensi sia importante invece un fondo di emergenza molto lo ritieni indispensabile allora noi siamo fortunati come italiani che abbiamo popolo di risparmiatori che no che abbiamo cioè il fondo di emergenza nasce principalmente dall'ottica americana statunitense dove non hanno la sanità la pensione c'è SNI e quindi non hanno questa welfare che c'è in Italia e quindi da loro è indispensabile perché se uno si trova con un'operazione da fare e 30 mila dollari da spendere è indebitato punto e in Italia fortunatamente c'è la sanità e quindi diventa un po' meno indispensabile però avere cavolo ne so guardo lo stipendio medio italiano che in questo momento è tra i 1700 e 1800 euro al mese se una persona ha 6000 euro in tasca per qualsiasi evenienza penso che tu stia molto tranquillo anche nella tua vita sia molto più tranquillo tu hai la possibilità di iniziare a dire dei no nel momento in cui ti vengono poste delle situazioni e soprattutto nel momento in cui che cavolo ne so ti si rompe il bollitore dell'acqua o che cavolo ne so succede qualcosa in casa vi auguro che non succeda mai niente anzi puoi riparare io ti dico la verità rispetto ogni idea ma se io avessi 6000 euro sarei nel panico più totale però magari è una roba se guardi la media cioè se uno ha 6000 euro nel conto è già nel 20% che sta facendo probabilmente poi per carità siamo fortunati che siamo un popolo di risparmiatori dove l'ottica dell'immobiliare prima casa viene tramandata e comunque mediamente siamo messi bene rispetto a come sono messi in giro nel mondo però già iniziare a crearsi un'assicurazione dal punto di vista monetario crearsi un'assicurazione dal punto di vista reale sanitaria o piuttosto che lavorativa o quant'altro e iniziare a pensare al proprio futuro in ottica diversa è qualcosa che secondo me è interessante farsi perché vivere la giornata se la giornata ci si volta male non è bellissimo ho visto che ora non mi ricordo la percentuale ma una grandissima percentuale italiani non si potrebbero permettere nemmeno una visita medica extra a parte che è gratuita così comunque una spesa extra mensile così non si la potrebbero permettere ora non mi ricordo la percentuale ma comunque era abbastanza alta ma anche banalmente nel senso il sistema sanitario funziona fino a un certo punto fino a un certo punto e quindi nel momento in cui tu hai un'urgenza devi sopperire a quell'urgenza in qualche modo ho visto alcuni casi e devi aspettare 4-6 mesi per fare le visite quello diventa gratuita però se c'hai poi un problema cioè per dirti io quando mi è successo il discorso del piede elicottero trasporto ospedale se ti fosse successo in America avrei speso l'infinito in più fortunatamente ho un'assicurazione cioè io ho l'assicurazione di viaggio quindi sarei stato coperto al 100% o al 95% quel che è io non ho pagato niente ho pagato poi per fare tutte le visite mediche dopo che mi hanno dimesso dall'ospedale di Palermo e lì ho pagato prima spesa banalmente per spostarmi da Palermo a Padova dove stanno i miei genitori poi i miei genitori si sono presi di cura di me fortunatamente ho le spalle coperte da loro ma se non ci fossero stati loro comunque io per fortuna mi sono creato un certo cuscinetto dove potevo pagare qualcuno che si prendesse quella di me e poi tutte le visite glielo ho pagate per avere un trattamento più veloce e mi sono messo nelle condizioni di avere un'assicurazione che copre queste spese senti ultimamente si parla molto di pension gap non so se volevo sapere infatti se puoi spiegare brevemente cioè perché è una questione che dovrebbe assolutamente interessare tutti soprattutto la nostra fascia d'età essenzialmente è un argomento molto importante allora possiamo fare i titoloni i clickbait e poi cercare di spiegarlo in modo più veloce banalmente noi pensiamo che la pensione sia assicurata a tutti nì uno schema ponzi la pensione c'è anche quel titolone lì è uno schema ponzi fino a un certo punto però è se uno va a vedere da quanto esiste il sistema pensionistico italiano cent'anni non lo so però cent'anni più o meno da non lo so neanche io non lo so 80 anni post guerra il problema è che sono tutti vecchi il problema è che il popolo italiano si sta invecchiando sempre di più e c'è sempre i lavoratori ci sono ma non hanno abbastanza potere per riuscire a pagare i pensionati quindi bisogna trovare altri modi per pagare i pensionati e quindi due sono le cose o alzi per forza l'età pensionabile che è una cosa che inevitabilmente verrà fatta nei prossimi 20 anni ma già ora è altissima altrimenti il sistema non è più di 70 anni il PIL italiano non so addirittura se il PIL italiano quanto l'Italia produce in un anno sia abbastanza per riuscire a pagare tutti i pensionati che c'è nel senso è un claim non vorrei sbagliarmi non ho le statistiche alla mano però è un problema ed è un sistema giovane che deve ancora essere completamente erodato e quindi il discorso è quando noi saremo 65 anni parlo alla persona media che ha uno stipendio quando noi saremo 65 anni e magari il sistema pensionistico italiano dovrà pagarci molto meno rispetto a quello che stavamo guadagnando come stipendio e passi da un 2000 euro a 1000 euro di soldi che la pensione ti dà e ci sono 1000 euro di differenza e in qualche modo lo devi sopperire ed è un qualcosa che è inevitabile cioè uno può stare qui a dire eh no ma non è così stai dire ma è così cioè punto ma già ora le pensioni sono basse ci sono casalinghe cioè pensionate prendono 60 giorni già ora sono basse mio padre tra l'altro è andato in pensione otto giorni fa otto giorni fa e il suo stipendio è stato tagliato del 30% ed è così cioè nel senso per fortuna mio papà si è coperto si è scoperto le spalle lui molto tirchio forse anche per questo che sono molto attento al denaro e quindi ha le spalle coperte però ognuno deve fare le proprie analisi e integrare quello che non ci arriverà perché andrà così c'è poco da fare per questo scusa noi parliamo dei problemi ma qual è la soluzione alla fine la soluzione è risparmio individuale secondo me la soluzione però si dice che fare l'imprenditore non è per tutti e lavorare per conto proprio ma quella è l'unica opzione alla fine cioè di costruire no non la penso crearsi il proprio valore guarda che fare l'imprenditore è molto difficile cioè noi parliamo con il bias di noi ce l'abbiamo fatta non per forza avere 40 dipendenti però che ne so vendere dei servizi a qualche persona così perché secondo me la soluzione non è risparmiare 100-200 euro al mese ma non tutti non tutti sono come noi tre cioè vai a par però sei costretto capito cioè qual è l'altra opzione l'altra opzione è intanto imparare a utilizzare bene i propri soldi come dicevamo prima e secondariamente imparare a riflettere per il futuro e quindi nel momento in cui non guadagni abbastanza apprendere e migliorare nel momento in cui spendi troppo tagliare le spese e con quel gap garantirsi un con quel gap tra guadagno e spese garantirsi un futuro migliore e quindi iniziare un piano di accumulo banalmente o un qualcosa che sarà un cuscinetto per quando avrò 65 anni poi è una figata tutto quello che è successo dopo il covid tutto il mondo dei lavoratori che ha iniziato a dire ok ma io voglio anche lavorare per stare bene con me stesso voglio un work lifestyle balance migliore ed è una figata cioè il covid ha preso questo tutto questo fenomeno e ha fatto fare tante domande da ognuno di noi ed è stata una figata ed è un qualcosa che secondo me cambierà il mondo nei prossimi decenni e secondo me io vedo positivamente quello che sta succedendo poi ognuno deve iniziare a farsi sempre più domande perché è l'unica capito ti faccio un esempio tipo a Grosseto dove sto io che non è in Milano una casa cascio cioè una casa brutta 400-500 euro al mese noi si dice cascio nel senso una casa che non è bella un po' vecchia 500 euro al mese 100-150 euro di bollette la spesa comunque è aumentata tantissimo 400 euro al mese se stai basso ma basso basso già lì sei a 400-150 e sei a 1100 ok guadagni 1400-1500 e come fai capito e nel tempo comunque questa cosa peggiorerà perché già sei sotto guarda i 1400 spendi 1100 però ci sono magari delle spese extra magari vuoi avere dei figli c'è capito a quel punto ti devi mettere nelle condizioni di riuscire ad aumentare il tuo stipendio e una strada è sicuramente quella che non è assolutamente facile di diventare freelancer imprenditori e quant'altro però un'altra strada potrebbe essere banalmente imparare nuove abilità e vendersi meglio a qualcun altro che poi ti pagherà ah certo quali pensi siano le migliori risorse che abbiamo in rete per migliorare le proprie skill riguardo sull'educazione finanziaria essenzialmente io ho preso tutte le cose che so su youtube youtube principalmente sei pro contro i corsi di formazione pro però a me piace molto indagare quindi sono curioso mi piace vedere cosa c'è dietro ho fatto anche diversi corsi di formazione non a tema no ho preso ho fatto un corso di finanza personale di harvard che è gratuito quindi trovi tantissime risorse no ci sono tanti corsi gratuiti bellissimi e delle migliori università tra l'altro e libri ne leggi mai libri io ho il difetto preferisci il video youtube preferisco il video e sono lento a lei sono una piccola dislessia quindi faccio fatica a leggere e quindi ho audiolibri ok poi c'è la immagino che conoscendoti un pochino vedendoti adesso hai la testa che va a 200 all'ora quindi non riesci neanche a stare concentrato magari sulla scrittura no più che altro io per esempio sono così i libri sono lenti perché se è un libro concettuale molte volte c'è quel concetto principale ripetuto in 64 modi diversi gran parte delle volte poi per carità se li leggi tutti hai quella sfumatura che ti può essere utile per qualcos'altro però sì i libri sono per me qual è il tuo preferito tipo padre ricco o uno che ti ha cambiato proprio mentalità è difficile mi è piaciuto tantissimo Let my people go surfing del fondatore di Patagonia che non è un libro prettamente finanziario ma ha tante ha tante sfaccettature finanziarie parla della storia di questa persona e del come ha fondato Patagonia e del come ha cercato di dargli quell'ottica quell'ottica green sostenibile che abbiamo oggi poi per carità sono andato ad indagare il personaggio e per carità ogni grande imprenditore dietro ha sempre qualche mistero però il libro è molto figo e tipo la lezione più importante che ti ha insegnato? non saprei menzionartela è molto figa la dinamica di come lui è riuscito a fare in modo che facendo il marketing contro l'acquisto del prodotto le persone siano riusciti siano comunque entrate nei suoi negozi e abbiano comprato se ne parli bene se ne parli male l'importante è che se ne parli no il discorso è che lui lui tipo ci sono stati momenti in cui negli store nel sito web ti diceva non comprare portaci i tuoi vecchi prodotti e loro te li aggiustano gratis ok e quindi tutte queste dinamiche mi sono piaciute al volo poi se devo essere cioè mi sono piaciute tanto poi se devo essere sincero non mi ricordo il singolo al volo così eh no no riccardo dubai o londra cazzo dubai a lungo termine no a lungo termine mi stai chiedendo a che termine si a lungo termine no ti sto chiedendo la città che ti facevi più delle due londra risparmio o investimento investimento gurulandia o muschio selvaggio gurulandia intervistare o essere intervistato intervistare shitstorm mediatica o chiusura dell'account youtube per sei mesi shitstorm mediatica giusto ricco ma infelice o povero ma felice povero ma felice intervistare Elon Musk o in vacanza per un anno intorno al mondo completamente spaisato in vacanza intorno al mondo ho visto che una delle tue passioni oltre a parlare di finanza youtube eccetera eccetera hai viaggi giusto te hai viaggiato tantissimo quest'anno particolare qual è il posto più bello che consiglieresti a tutti ho visto per esempio ho visto un tuo video youtube dove eri alle Maldive che cavolo tanta roba però magari non lo so ho visto in Russia ogni posto le sue bellezze infatti ti chiedo a livello soggettivo quello che piace a te quello che ti è rimasto un pochino più nel cuore non saprei dove tornare cioè se devo scegliere un viaggio faccio un viaggio dove non sono mai stato ok è bello questo già è una bella cosa ti posso dire il peggiore ok sono stato in Nepal a sul Himalaya tipo purtroppo no sono stato a Kathmandu non so come si pronuncia capitale mamma mia cioè che difficoltà perché perché è una città almeno quando me la sono vissuta era una città piena di inquina di inquinamento iper inquinata quindi se andate in Nepal saltate Kathmandu andate direttamente non ho fatto tempo in Giappone siamo andati mai anche in Giappone non mi affascina così tanto sinceramente messi di brutto cioè da aprile tutto il mese comunque benissimo io non ho sì sì certo comunque sei molto forte su YouTube sicuramente in tutta la tua carriera abbiamo parlato poco YouTube capito avrai imparato tantissime cose fa conto se tu avessi un amico che vuole iniziare adesso un canale YouTube so che è una domanda super generica però magari quali sono tre lezioni che diresti che hai imparato le più importanti che hai imparato per far crescere un canale YouTube avere un canale YouTube di successo dipende cosa vuole fare perché ci sono tante persone che iniziano ora a fare YouTube per marketing quindi per promuovere la propria attività o impresa ci sono altre che lo fanno per passione e dipende dall'obiettivo finale perché fai YouTube cioè la prima cosa che gli chiederai è perché vuoi fare un canale YouTube se l'obiettivo se l'obiettivo unico è diventare famoso fare soldi gli direi guarda che non funziona cioè se uno vuole pubblicizzare la sua azienda se uno vuole pubblicizzare la sua azienda andrei a dirgli suddividi la tua azienda in in quello che fate e andate a spiegare in modo gratuito quello che fate e cercate di rendere tutti i vostri contenuti educativi per le persone cioè la mia principale strategia di crescita all'inizio è stata un spiego alle persone cose che potrebbero cercare su YouTube come fare cosa perché fare quello perché fare quell'altro ora per carità è molto più saturo ed è molto più difficile crescere quindi dietro ci devi anche costruire un personaggio in un qualche modo e quindi devi avere il tuo carisma devi avere il tuo spritz insomma deve esserci un motivo per cui al di là di quello che spieghi le persone ti guardano perché esponi bene un certo argomento ma ci deve essere quel qualcosa in più quindi quel qualcosa in più ti puoi mettere a tavolino e dire ok io ho questa particolarità cerchiamo di sfruttarla e e dopo di che la cosa principale è anche il discorso di essere autoanalitici cioè facciamo 50 video perché se ne fai uno intanto non funziona quindi continuità facciamo 50 video pubblichiamo 52 settimane facciamo un anno un video a settimana ok vediamo come va vediamo cos'è successo cosa non è successo e poi altra cosa per crescere YouTube io se partissi adesso probabilmente non partirei da YouTube partirei da TikTok partirei dai short form videos e quindi di quei 52 video prenderei un'agenzia o prenderei un intern che che fa il videomaker e gli direi da ogni video prendimi e fammi 6 contenuti short e in modo targetizzato e quindi farei un'analisi dell'audience delle persone che guardano che potrebbero guardare quel canale andrei a creare altri 6 contenuti short da quel contenuto lì è dato tantissimo valore sì sì assolutamente grande e per esempio te come trovi le idee per i tuoi video YouTube anche al giorno d'oggi tra l'altro scusa se mi intrometto un attimo visto che spesso ripubblichi video che hai già fatto anche questa è una cosa infatti cioè vai su quello che funziona in pratica alcune volte sto testando questa cosa e funziona molto bene perché ovviamente 4 anni fa la qualità era molto inferiore rispetto a quella che porto oggi e quindi tipo prendo a partire da quel video che è andato bene lo riassemblo e lo ridiscuto in un modo diverso però questo funziona perché faccio anche video educativi e quindi ho tanti video di un certo argomento e quindi posso dire ok prendo questi 10 video le cose che hanno funzionato meglio li riassumo e li rendo digeribili in modo migliore quindi le cose possono funzionare poi in realtà scusate poi in realtà per per il discorso di idee io ho un ho un database infinito cioè ogni volta ogni volta c'è qui io tipo così mai adesso tipo chat gpt devo fare un video di chat gpt stop e questo qui è sincronizzato direttamente con l'iPhone e poi ogni settimana vado a revisione una cartella ah ho notato ora che hai due orologi ci ho fatto cosa adesso perché mi sto appassionando al mondo mio papà è orologiaio cioè li ripara nel negozio di mia mamma e poi facendo questo in realtà l'ho preso nel momento sbagliato quindi adesso costa molto meno di quello che ci sta e quindi ho iniziato a appassionarmi quindi sto esplorando questo mondo ultima cosa mi interessa delighi qualcosa della creazione di video tipo hai un videomaker qualcuno ti fa le miniature o fai tutto siamo in quattro in questo momento ci sono io mio fratello che fa tutta la parte di videomaking e quindi post produzione poi in realtà c'è sempre un back and forth tra me e lui cioè lui mi dice ok il video è pronto io faccio la revisione gli dico cosa cambiare lui mi ero resiste il sistema e andiamo avanti poi c'è un ragazzo che da tutti i video che io faccio crea i contenuti brevi e c'è un altro ragazzo che sono cioè in questo momento pubblico di media se devo contare tutti i social sei video al giorno perché conti tutti i social poi un video è uguale in tutti gli altri forse anche di più perché su tiktok pubblichiamo una o due volte al giorno insomma c'è tanta roba quindi c'è questo ragazzo che si occupa solo dei contenuti brevi e c'è un altro ragazzo che si occupa che si chiama federico mio fratello alfredo questo ragazzo che si occupa dei video dei videocorti e un altro federico che si occupa della relazione con i clienti e del calendario editoriale e poi essendo in quattro comunichiamo sempre molto spesso in che senso calendario editoriale una persona ti gestisce proprio quello è così importante nel momento in cui pubblico sei video al giorno questa persona si preoccupa che quei sei video vengano pubblicati nel momento giusto con i giusti tag la giusta descrizione e tutte le cose corrette programmi o vai a pubblicare manualmente su ogni piattaforma non so perché mi è arrivata la voce che quando vai a programmare con un tool esterno questo non piace ai vari algoritmi programmo con tutti i tool di tutte le piattaforme per questo c'è la persona che lo fa la persona che va su youtube va su youtube va su tiktok va su facebook non usi un software esterno che pubblica su molti piattaformi ok in realtà poi per i video orizzontali che sono il contenuto più importante su youtube ci sono delle volte dove proprio schiaccio io pubblica e si pubblica ok 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 top perfetto io non ho altre domande intervista tra l'altro grazie del valore grazie per avere un sacco di fare mai un corso su come si fa youtube ci aveva pensato mi hanno chiesto è che c'è già Marcello Ascani che lo fa ciao Marcellino non so non ho voglia di pestare i piedi a nessuno poi magari in futuro lo farò in modo più in modo più particolare è più facile che faccia un mini corso sulla finanza personale però mi piace anche condividere moltissimo tutte le cose che so in modo completamente gratuito perché comunque anche condividendo le cose gratuitamente ho un ritorno in un qualche altro modo perciò sono contento di come sta andando a livello content creation e non ho particolari piani di fare un corso mio grande ultimissima domanda poi prometto che chiudo dove ti vedi tra dieci anni non lo so spero di io sono io ho 25 anni in questo momento e sono nella fase della mia vita dove faccio esplorazione quindi qualsiasi cosa che mi incuriosisca la cavalco cioè sto aprendo questa attività fisica con altri tre soci dove ho zero esperienza poi per carità so come vendere una cosa online non so come venderla al pubblico certo e quindi cioè adesso ho un patrimonio di 600 mila euro 600 mila dollari più o meno e ho anche se domani dovessi trovarmi con un terzo se ho imparato qualcosa sono contentissimo quindi fino ai 30 anni sono esplorazione dopo i 30 anni boh vediamo mi piacerebbe avere una famiglia mi piacerebbe avere una casa mi piacerebbe raggiungere poter toccare e migliorare in meglio la vita di tante persone poi è difficile cazzo invidio tantissimo però questa tua spensieratezza cioè io non lo so dove mi porterà cazzo ho la fortuna di essere bello probabilmente la giovane età che ti invidio anche quello no però tornando al discorso di striscia penso cioè io sono contento ci sono persone lo dico davvero che parlano di soldi di finanza c'è tutta la merda che c'è è bello che una persona si vedesse uno genuino uno guarda non so come rispondere è un bene che ci siano anche dei canali come il tuo su youtube insomma il rispetto a tutti quelli che parlano di soldi ecco se esistono vuol dire che ci sono persone a cui piace che vengono intrattenute quindi non deve essere per forza un cioè io faccio questo perché mi piace fare questo e perché mi piace arrivare alle persone in questo modo poi se una persona fa qualsiasi altra cosa o fa un contenuto di intrattenimento cazzo sai quanti contenuti di puro intrattenimento senza nessuno scopo mi digerisco e sono iper contento e mi viene nella giornata felice quindi evviva chiunque grande grande Riccardo un ringraziamento a Riccardo Zanetti guardate Gurulandia guardate Gurulandia e noi come sempre ci vediamo alla prossima puntata ciao fermi tutti vi ricordiamo anche che se volete aprire o gestire una partita IVA in descrizione trovate il link per prenotare una prima consulenza completamente gratuita e senza impegno con un esperto di fisco Zene insieme a uno sconto di 50 euro sul primo anno di abbonamento ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao